Quindi ai ragazzi faccio usare condimenti leggeri, ricchi di antiossidanti, ad esempio l'olio, abbiamo scelto olio cuore con acido linoleico che aiuta a controllare il colesterolo. Bravo, bene, bellissima intervista dottore, però adesso basta, è tutti zitti che giriamo la staccionata, grazie. Quanto tempo per la staccionata? Quarta d'ora? Meno, cinque minuti, no cinque, ti do cinque minuti al massimo e poi finiamo, è da stamattina che sta parlando la staccionata. Un attimo qua, te lo dico l'azione. Va bene, ok. Movimento là dietro! Olio cuore con acido linoleico che aiuta a controllare il colesterolo, bene, ok? Due sette quarta. Olio cuore! Olio cuore con acido linoleico che aiuta a controllare il colesterolo. Ce l'ho dai, andiamo. Olio cuore con acido linoleico che aiuta a controllare il colesterolo.